Benvenuti in Kiwi E benvenuti ragazzi a questa terza puntata dello zoppatore la zoppatrice Cioè sarebbe il contadino cerca moglie Oggi ne vedremo delle belle, ne vedremo delle belle Ma prima di iniziare ragazzi ricordatevi di iscrivervi al canale Attivare la campanellina, commentare, condividere e mettere like Ricordatevelo ragazzi almeno per una volta lo facciamo, anzi lo fate Dai ragazzi iniziamo subito con questa terza puntata della reaction del contadino cerca moglie Ciao Oh ma che stai a truccare? Che le vacche devi andare? Ah va stai a mezzogiorno Mezzogiorno Che alle vacche dobbiamo andare? Cioè qui se stanno a truccare e poi a mezzogiorno un po' più tardi no? Non va bene partire tardi la mattina Perché io mungo a mano e mi metto sotto gli animali per mungere Quando alza il sole iniziano uscire gli insetti Le vacche anche col sole stesso si nervosiscono E beh certo te credo poi col sole a mezzogiorno ma che sei matto Quindi questo è il primo cazziatone che vi sto facendo Della giornata La mattina Il giorno poi potete dormire pure in piedi ma la mattina già me lo spingiamo agli occhi Sì raga la mattina vi dovete dare una svegliata eh Guarda Mi viene guarda Eh una sfida lo stai perdendo Ah ma se stanno a mungere le vacche stanno a mungere Dai dai famo un po' di latte dai Eh tosta devi fare forte Rosy tu puoi fare la pastorella brava Oh Rosy la pastorella ci piace Rosy la pastorella brava brava Rosy Mi raccomando eh fate il cacio a cavallo Ti penso eh fai cose buone Magari non succede niente Ah mo se ne vanno tutte e due a cavallo così in giro Chissà cosa succede Allora che dobbiamo fare? Adesso cominciamo a mungere Dobbiamo mungere Dobbiamo mungere Ah quindi oggi proprio giornata di mungitura eh Ah ok ma non è che si sono messi d'accordo no eh Vabbè Ero troppo curiosa di sentire la consistenza da Sisa Dai dai Perché io non riesco Ah 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 Questa è messa poco simpatica Bravo a fare cose da Sisa Bravo brava Io pensavo che andasse fatto in questo modo Invece è solo così No quella è un'altra cosa Vieni qua apri la bocca Che cosa? Che cosa? No vabbè sto male anche io lo devo fare assolutamente Ah stanno a assaggiare latte È dolce Sono passata dallo sbocciare Crystal A sbocciare latte direttamente dalle mammelle di Ursula E beh oh da sbocciare Crystal a latte da mucca è un attimo eh Mamma mia lei oh Terribile Eh Maron manca avesse assaggiato il veleno Potrebbe essere No vabbè Valletta delle vacche Oh la Valletta delle vacche ci piace 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 Oh gli asini i compari miei ciao compà Vediamo l'acqua e gli asinelli come si faceva cento anni fa Si fa così perché si riempia a metà Spingi della botta Vabbè mo sta una pia l'acqua dal pozzo sta una pia eh Posso? Allora Aspetta per la tua sicurezza devo questo Ma se nemmeno io restavo dove era non era meglio Cioè lui fa tutto il protettivo con le altre E con me zero Vabbè un po' per uno Ma arriva pure a te Arriva eh Bello che porti avanti tutto È veramente una meraviglia E non è da tutti Potevi mollare tutto Andar via Potevi fare tutt'altro Invece Voglio di essere ferita Si lo so Hai vista Hai vista Mo in bocca alla volta pure a te Te sta a fare cose Dai eh Non litigate raga Mi puoi indicare gentilmente la strada da dove stanno arrivati È brutto prima raga Allora insieme facciamo Perché ti arrabbi Voglio andare via No sta buona Sta buona Dai Mo arriva pure a te Arriva comunque l'altra volta Vi dissi che sta ragazza assomigliava a un'attrice anni 70 Oh raga Mi sono ricordato Assomiglia a Monica Vitti Assomiglia Raga Andata la cerca Forse la metto da qualche parte Se la trova la foto qua Oh Scepia eh Scepia un po' C'ha Monica Vitti eh Se non vedo te la vera Mi ha fastidio Ma è in casino Sto se mi c***o Cioè devo No Non posso stare sempre Così diventa complicato ragazze Dai Tu non ti intromettere Non mi sono entrometti per fatto Dai ma ragazze Ti sono in difficoltà No raga Non litigate Non ve menate Oh Questi stanno proprio elettrizzate Stanno eh Datevi una carmata Raga E dagli Un giorno Ciao Ciao Marco Buongiorno Ciao Non so cosa ho fatto Ho fatto disastri Ah Gli ha portato a colazione a casa Da una bella Bella mossa Dobbiamo fare Sto L'oponeto Che è fondamentale Per il mio Economia E commerciale Va bene Perché se lascia male Nell'oponeto Non vede fuori Da che più Dovete cambiare Vestivi pesante Vi spiegherete un po' Che c'è di scusa Ma Lo che voglio Oh Eppure loro Stavolta Se mettono A zappa L'altra volta Se la sono scampata Ma stavolta Taglie de zappa La terra è dura La terra è pesante Ma niente Non ci spaventa niente Brava Così ci piaci Bella Carica Aggressiva Brava Stamattina ho lavorato tanto Infatti Gli ho detto Almeno un piatto di pasta Me lo sono meritata E beh Sì Stavolta Bisogna essere onesti Tu sei La pagnotta Ti sei meritata Brava Brava Mi piace lavorare la terra Ovviamente Se si parla di un piccolo appezzamento È un discorso Farlo a mano Quando si comincia a parlare Di un campo gigante A mano Non vi avete neanche il binocolo E beh Io non credo Che un campo gigante Lo facciano a mano Ma anche se fosse Ah sì Devi da lavorare Lorenzo e le sue pretendenti Stanno per darsi All'apicultura Oggi Mostrano a che fare Con le api Zzz Mamma 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 mia A vederle una o due Non fa impressione Ma così tante Fa un po' D'impressione Io mi ci immagino Qui mi ci vedo Io e lui Con le tutine Così Ma che sei scemo Ma mettite li guanti Che te punge Ma non Lorenzo sta cercando La sua peregina E insomma Vediamo se È un uomo Che merita una peregina E che vuoi Essere tu La peregina C'è una legge Ok ok Che carini Che sono Tutti No peccato che un po' Si è disabitato La mostra La fa la passeggiata Nel pesello Col cavallo Chissà come sa La cava oggi E questo Si chiama il vicolo del bacio Il vicolo più strato Del centro storico In due Non si riesce ad entrare Quindi Ragazzi si venivano Sempre È un po' Sca qua dentro Guarda vieni Attenzione Attenzione Sta per succedere qualcosa Magari non succede niente E dai Amicherino Bravo In seconda battuta Michele va di limone Bravo Bravo Adesso È dura Eh beh È abbastanza dura Come sono innamorata Deste vacche Ah non di me Cos'è Ti devi innamorare Si è prezzacchi E partimo Dalle vacche Ti devi innamorare Di me Non delle mie vacche Vabbè dai dai Un passo alla volta Dai un passo alla volta Eh Visto il suo al mare Non ce va venire Per me il mare è fondamentale Guarda che io mi piego E per te A venire al mare Eee Forse ne hai capito Tutti i trovi Devi da lavorar Sì Però ogni cosa Con uno di voi Io vi devo capire Ora uno a uno Se stiamo sempre tutti insieme Non riesco a capirvi Poi diventa tipo una gita Tra amici Oh vei Ha detto proprio nei denti Un po' per una Con tutte quante Io qua non voglio Una misizione E' l'hai fatto Oh maron Che sguardo L'hai elettrizzata Zì Ah pure qua è arrivata Oh maron Terriamo il tenzio Mi aiutatevi a tirare Oh 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 La vacca sta a partorire Oh Vai vai Brava Piano piano Vai 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 Aspetta vai Oh Dio Eeeh Hanno fatto partori pure il vitello Buono Buono il vitello Al forno che patate Ottimo E' stato un momento Magnifico E' stato un momento Tanto 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 Emozionante Dai almeno Sei emozionata Sei data una mezza calmata Almeno Dai almeno questo Vedere anche solo un animale Che mette alla luce Una nuova vita Per me E' un'emozione unica Dai 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 Se stanno a calmare Se stanno a calmare le acque E' stato anche emozionante Vedere Emanuele Quanta passione ci ha messo Quanta forza Quanta grinta Nel fare quello che stava Facendo E beh certo E sono va lui Che lavoro suo Che stai pensando Come Cosa stai pensando No niente Che sono una donna da sposare Parole dure E beh oh Qua volano Volano affermazioni pesanti E infatti pure gli altri L'hanno guardata così Come di oh Tant'è una calmata Oh Però Bella La vedo bella carica Lei brava brava Mi sei simpatica Buonasera Buonasera Ciao Ma capito Fai due così in una Oltre il danno Terza puntata Dello zoppatore La zoppatrice Cioè contadino Cerca moglie Oggi è stata una puntata Abbastanza Elettrizzante Poi ci sono state anche Michele in seconda battuta Che ha dato dei limoni Bravo Michele Bravo E ricordatevi ragazzi Iscrivetevi al canale Mettete la campanellina Mettete like Commentate Condividete E condividete Tutto quello che dovete fare Però raga Una volta tanto Una volta tanto Raga Fatelo Eh Dai Fateme Fateme Spigne sto video Dai 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 raga Quindi ci vediamo Alla prossima reaction Ciao belli Ciao belli Ciao Ciao Ciao